cupumeghes dove sei cupumeghes se ci sei batti un colpo c'è o non c'è c'è buon sabato ragazzi buon san lorenzo auguri a mio nipote che oggi fa l'onomastico e a tutti i lorenzi di questo mondo lorenzo uno così dice che tu stanotte andate in spiaggia guardate le stelle e dite san lorenzo cadi una stella fai che scendano queste quattro stelle il primo è cupumeghes dove sei nico gonzalex dove sei un altro difensore non si capisce quale e adesso l'altra stella questa è bellissima detto da di marzo ieri sterling ovation sterling quanto sterling costa questo sterling sterling ragazzi lo sapete quando guadagna sterling eccessi 9,3 sterline milioni di sterline vuoi che ti faccia il cambio in euro saranno minimo 10 milioni di euro circa di marzo di marzo di marzo di marzo e un altro che ha chiesto dia l'ha detto di marzo lui è più credibile e poi una volta picchiata libera per di marzo un altro la che dice minchiata che l'ho vista tra volta all'elice l'ho salutato perché l'ho vista alla fine ripeto sono la savano brave persone ma quanti minchiati che dico 9 ragazzi un nuovo un nuovo nome per la juventus sterling tu ti capite giamagano sterling che poi alla fine o mai inglese a tutti gli effetti ma ti rendi conto sterling ex Liverpool ex Manchester City ragazzi da 200 partiti fici 150 quindi è uno che guarda ragione era forte ma adesso 29 anni da Chelsea lo sai quando fici 8 gol ha fatto l'ultimo ho visto qua l'amiche ve lo vorremmo a ridere 2 Chelsea 1 ha segnato sterling però ripeto ragazzi questi sono ormai ragazzi un ragazzo 29 anni diciamo in via puro del tramonto però forse se viene in Serie A può fare tipo la fine di Di Maria De Giroux tipo che sono diciamo usato conveniente e quando vengo in Italia a meno per uno sbarra due anni fanno i top play perché in effetti vedi Giroux Giroux guarda quello che l'ha fatto si è girato Giroux quindi la giova di Di Maria qualche golletto con l'ha fatto comunque sterling io penso completamente perché Cuccio pago stipendi a sterling a parte la sua valuta la sua valuta di 35 milioni di euro e qui c'è questo 35 milioni di euro non riusciamo a prendere altro tipo a meno che si le paga a rate perché dice Maresca no noi da quando hanno preso la Petroneto 63 milioni di stelline dice che non c'è più spazio quindi Maresca ex Juventino tra l'ho da Maresca Cuccio pago Cuccio pago con il 3 a 3 Maresca ha detto da allenatore no non fai a parte più del progetto tecnico e tattico allora vattene alla Juventus nella nostra Juventus chissà chiama di questa macchina ancora mi ricordo quando Ferrande segnava poi aspetta faccio il 3 a 3 grande Maresca che attualmente Maresca farebbe praticamente attualmente poteva se giocava poteva fare il cosa aveva il posto fisso a Cenocambo Aruchi Locatelli e Miretti Maresca maresca più forte di Locatelli e Miretti che che dico una cosa di male vedi mi pare pare indenditore come sempre comunque ieri ripeto Ascano ha detto questa cosa ragazzi oltre addirittura a Nico Gonzales imminente d'arrivo detto da tutti i youtube imminente d'arrivo subito ormai siamo al dettaglio hanno detto tutti quanti ma allora ragazzi tu giuro guarda si falleva già già hanno fallito fallisco per guarda fallisco per Girù fallisco per Coppumekes ma sarebbe fallimento e strafallimento tra giornalisti youtube anche se che ci piace il calciomercato io non potete capire lo detesto lo detesto proprio veramente mi porta nervosismo ragazzi quindi quindi queste a chi saranno le alle della Juventus chi lo motte dice vuole con il comune c'è vuole lo subito da Nico Gonzales non ci ho detto da molto non lo voglio subito ragazzi sembra la siamo e si piglia Nico Gonzales e si piglia e si piglia Sterling la squadra insomma diventa più forte si capisce no? ancora manca l'attaccante ancora manca un difensore gli esuberi stanno là e non si smuovono proprio stanno lì capito? fanno apposta capito? capito? da partita così fiscale a partita da Chiesa Mekenni Costi Decilio Decilio ma non trova squadra ma ti rendi conto Decilio ma te tu con Monza Decilio non tu vuole nessuno lo vuole ragazzi nessuno mamma che schifo ragazzi comunque per Nico Gonzales si dice quasi fatta dice che la Juventus ci darà Costi e Mekenni insomma la Fiorentina oh vedi la Fiorentina per Costi e Mekenni si rinforza dice vero che perde Nico Gonzales però insomma Mekenni non c'è giusto tutti c'è il nuovo campo a Fiorentina e Costi ci diciamo almeno nel caro e nel pece ma magari quello una squadra diciamo meno blasonata della Juventus senza che i toscanacci i fiorentini si offendano e si si offendano a di cogliona a di coglioni e ragazzi la Fiorentina questa nella storia abbiamo fatto sempre cacciomeccato con loro capito? noi ci abbiamo regalato la loro afficero fu a Scaieri abbiamo dato da Baggio Bernardeschi 40 Chiesa 60 Vlaulici 90 capito? poi tutti i chili Felipe Melo cos'è? chi là praticamente così ce l'ha Bernardeschi ha detto sì praticamente ci abbiamo dato qualche nella loro storia qualche 200 milione di euro e noi ci abbiamo dato Torricelli 4 milioni di Libio 2 milioni a cui ci detto Felipe Melo l'anno da io Felipe Melo a che ci abbiamo dato ci abbiamo dato che abbiamo dato Ken chi è c'è? e mo si viene meccanico però noi ci vediamo come l'anno si sono presi con noi 5 6 7 manca 7 sono arrivati capito? o forse l'unico cosa è Ken 13 ma poi invece che noi ci abbiamo proprio l'abbiamo mantenuti a queste della Fiorentina 200 milioni di euro proprio nella storia della Juventus ci ha dato la Juventus la Fiorentina e chi si lamentano pure ok 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 ha avuto un presidente mafiusula detto questo staremo a vedere ragazzi qua ripeto 10 agosto ore 12 circa Cuppo Meghes dove sei? e questo sarà il mio format fin quando non arriverà Cuppo Meghes fin quando era Cuppo Meghes 55 milioni di bonus 55 milioni più bonus pensa un po' sarà il mio format va bene? vedi un'estate trovo uno prima c'è Ams ams ormai finito ams ormai in ferie ams vedete si è preso il 12 agosto ritorno già fa più perché è stressato poverino Ams è stressato senza figli senza famiglia chi l'è stressato hai capito come? mannaggia miseria mannaggia io che ho visto a navigare a fare la vedetta a fare tutte le erbe avere la famiglia uno stupendo da solo mantengo il mondo sto al nord e chi l'è stressato hai capito come? vedete come il mondo tutto contrario e te la scrivere ma tu sei stressato ma tu sei godi le tue vacanze è vero hai lavorato troppo manco sapete che significa lavorare ma il youtube è diventato lavoro capito? mannaggia la misera mannaggia si perché la cosa c'è devono comunicare qua la lingua deve essere capito? è stanca di parlare capito? i divini a zappare tutti i youtube che siete compreso io ma io lo so che lo faccio comunque detto questo youtube giornalisti andateva a zappare tutto quanto detto questo iscrizione al canale di imparare palermo sempre onesto sempre diretto sempre soave sempre intendere di calcio o no ho sbaglio ho detto tutto che ho detto tutto comunque Sterling non verrà secondo me ragazzi perché non prenderà mai a 10 euro ma anche se riduce il contratto a 5 si riduce a 5 a 4 uno che piglia a 5 si leva a 5 non ci crederò mai però abbiamo detto che a meno io guarda do una percentuale il 90% che arriverà sia a cupumegues e che sia Gonzaga stiamo usando Gonzale Guain a Nico Gonzales va bene staremo a vedere cupumegues dove sei 10 agosto ancora non ci sei e questo video lo faccio finire a decimo minuto oggi 10 agosto San Lorenzo quindi San Lorenzo ti prego stanotte una stella deve cadere a cielo a dire guarda dammi a cupumegues dammi a Nico Gonzales dammi a Sterling dammi o un difensore a screen dammi un difensore qualsiasi ma perché la prima cosa ora si parlava di Ulmus la Hermoso che fa non fanno schifo per i Windows e quello è il problema che la non ne vuole più nessuno chi sarebbe la Tatti soprattutto questo Hermoso Hermoso e Ulmus vi fanno schifo come io dico di sì io li vorrei a questi qua in difesa minchia piglia Hermoso e piglia tutti chi sei qua ragazzi non siamo anche noi da scudetto davvero sempre là siamo si palla si palla ma è fatta ma staremo a vedere io sono sempre fiducioso di qua a 30 agosto tireremo le somme fino alla fine del cacciomercato estivo vi auguro una buona giornata e buon sabato ciao